Si è tenuta oggi in Comune Arco la presentazione della giornata di inaugurazione del nuovo Centro Giovani Cantiere 26, che si svolgerà venerdì 13 febbraio. Il nuovo centro sarà da una parte un luogo a disposizione dei giovani, per trovarsi, stare insieme, dedicarsi alle attività preferite. Dall'altra uno strumento a disposizione dei grandi, per offrire alle nuove generazioni un percorso di crescita strutturato. Nel primo pomeriggio avrà luogo l'inaugurazione alla presenza delle istituzioni, a seguire alcuni interventi di esperti e testimonianze dei centri giovani del Trentino, in particolare da Rovereto, da Pergine e Andalo. A partire dalle ore 20 si terrà la parte fessosa dell'inaugurazione, con ospiti, buffet e cocktail analcolici, con conclusione della giornata alle ore 23 e 30. Ad inizio serata si esibiranno i Funk Box Crew, un gruppo di ballerini di breakdance. A seguire si esibirà Nancy, cantante di Black Music, che canterà e suonerà il suo nuovo album Inshallah. Termineranno la serata i The Wise, gruppo folk rock di Riva del Garda, freschi della loro partecipazione a X-Factor. Sentiamo le parole dell'assessore Silvia Girelli e del presidente Salvador Valandro. Siamo con Silvia Girelli, assessore alle politiche sociali del Comune di Arco. Conferenza stampa oggi dell'inaugurazione del centro giovani, cosa ci può dire a riguardo? Allora, beh, si può dire che finalmente oggi possiamo parlare di inaugurazione del centro giovani, quindi il 13 febbraio, dalle 2 alle 11.30 alla sera, ci saranno degli eventi di inaugurazione, una parte istituzionale con i saluti dell'assessore provinciale anche Sara Ferrari e del direttore delle politiche giovanili di Trento. E una parte dalle 8.30 fino alle 11.30, più dedicata alla parte giovanile, diciamo, con concerti e spettacoli. Col 14 avremo comunque una strutturazione, un'organizzazione completa e omogenea di attività che verranno ovviamente gestite dal nuovo entogestore sempre in collaborazione con il Comune di Arco e in realtà del territorio che sono sia le associazioni ma sono anche cooperative e aziende che in questi mesi hanno collaborato. Tra queste non posso non nominare il Casa Mia che comunque ci ha aiutato insieme a un'associazione offset di Roveretto a organizzare l'inaugurazione. Quindi è una realtà del territorio che c'è stata, che abbiamo invitato quest'estate al bando, una realtà comunque che in qualche maniera con la quale vorremmo continuare a collaborare. Quindi l'obiettivo col 13 e dal 13 è quello di avere finalmente un centro aperto, collegato finalmente con le realtà del territorio. Siamo con Salvador Valandro, Presidente della Comunità di Valle. L'apertura del centro giovani tra qualche giorno che avrà una valenza sovracomunale. Assolutamente, non può essere diversamente. I ragazzi d'altra parte non conoscono confini, non si fermano al mero confine comunale ma considerano il loro territorio come appunto casa comune. Quindi anche da questo punto di vista il centro giovani deve essere la casa di tutti i ragazzi della comunità. Lì tutti i ragazzi della comunità devono poter trovare la possibilità di esprimersi, di esprimere le proprie capacità creative, di potersi divertire, di poter crescere, di poter magari apprendere qualcosa di nuovo anche per quel che riguarda la scuola ma anche noi speriamo poter trasmettere loro alcune competenze per crearsi un lavoro nel domani. Quindi da questo punto di vista l'apertura del centro giovani diventa un momento assolutamente importante per l'intera comunità e per il futuro della comunità. Non è una cosa da sottovalutare, non stiamo aprendo una struttura secondaria, stiamo aprendo una cosa assolutamente importante che deve dare l'idea dell'impegno che anche l'amministrazione pubblica vuole mettere concretamente rispetto allo sviluppo dei nostri ragazzi e alla crescita dei nostri ragazzi. Il centro giovani deve diventare la base operativa per il futuro dei ragazzi. Certo, poi ogni tanto ci si deve anche divertire e quindi magari la sera qualche concerto, qualche film, qualche momento un po' più leggero, ma all'interno del centro ci deve essere appunto la consapevolezza che lì si accresce anche la responsabilità dei ragazzi, lì si accompagna verso l'età adulta, lì si fa diventare grandi.